dispositivo di navigazione gps attivato prima di partire si raccomanda di disporre correttamente il seggiolino per i bambini e allacciare le cinture di sicurezza in partenza anzi no la bimba non è sul seggiolino regolamentare accosta e assicurati che il dispositivo sia ben allacciato inoltre non stai rispettando limiti di velocità si può sapere cosa stai facendo così metti a rischio la tua vita e anche quella di tua figlia adesso basta da oggi sono in sciopero mi rifiuto categoricamente di farti da navigatore settimana per la sicurezza dei bambini in auto dal 9 al 15 novembre vieni a trovarci nelle concessionarie fiat dimenticavo il motore è d'accordo con me buon proseguimento a piedi